Bella a tutti ragazzi e bentornati con un nuovo fantastico appuntamento siamo qui con David e siamo per andare a fare una bella, cioè ho già iniziato una bella partitina su FIFA 17 senza tagli, senza camera in realtà per un altro motivo, non per motivi diciamo allegati al gioco ma per una questione di tempo sicuramente avete notato che un giorno non è uscito il video e perché in questi giorni sono un po' impegnato anzi facciamo una cosa niente ragazzi vi stavo dicendo questo è il nuovo tipo di calcio in angolo sicuramente l'avrete visto già su altri canali perché in un giorno ovviamente già saranno usciti milioni di video attenzione, azione pericolosa, niente ho scelto il Bayern perché la squadra con cui ho visto che mi sono trovato meglio ho fatto due o tre partitine perso quasi sempre la difficoltà leggenda troppo forte cazzo non lo so come fa certa gente a vincere tranquillamente per me giocano da dio ho anche vinto qualche volta però insomma è difficile comunque giocano veramente bene la difficoltà leggenda tra l'altro credo che sia anche migliorata l'intelligenza artificiale infatti l'avevo detto anche in una video recensione niente ragazzi vi stavo dicendo che un giorno non è uscito un video se non sbaglio e sono molto impegnato per motivi di studio e per questo motivo ho anche sospeso le sedi insomma Tomb Raider, The Walking Dead che devo dire negli ultimi giorni erano anche parecchio calate come interesse oddio non è che faccio i video che spopolano poche visualizzazioni però ovviamente le ultime erano davvero per niente seguite e quindi non so se alla fine completerò le serie potrei anche alla fine portare qualcosa di nuovo mi piacerebbe comunque completarle soprattutto Tomb Raider The Walking Dead so deve iniziare il quarto episodio avevo pensato in realtà di portare sia il quarto che il quinto episodio anziché come ho fatto con gli altri di portarli magari in un unico video cioè un unico video magari per il quarto episodio e un unico video per il quinto tipo magari esce un video non so di tre ore forse tutto tutto l'episodio un po' troppo però magari in due parti se può fa prova il tiro dalla distanza comunque devo dire sembrano quando giochi molto più macchinosi i giocatori in realtà però poi ci stanno la possibilità di farteli in velocità soprattutto con Cristiano Ronaldo che è un razzo e qualcun altro tipo Bale sicuramente anche Robben attenzione la roba a centro campo ecco Robben che serve molto bene Tiago che lo no dai questo tiro di merda hanno usciti un fottio attenzione di video sul finale 17 non ne ho dubbi su questa cosa e magari fatemi sapere un po' che ne pensate io ho fatto un video avete visto ieri qualcuno sarebbe guardato ah hop là dove ho fatto il confronto realtà gioco dei volti dell'Inter e della Juve fatemi sapere magari se vi può interessare attenzione no niente non va se vi può interessare vedere anche il confronto pressing alto niente finisce il primo tempo così nella depressione più totale fatemi sapere anche se vi può interessare magari il confronto di altre squadre infatti stavo pensando di portarlo con non lo so forse il Real Madrid dovrebbe interessare Manchester City United queste squadre qua comunque come avrete visto sicuramente ci sono dei volti veramente ben fatti lo devo dire attenzione questo è gol no dai una cosa mi fa incazzare tantissimo di sto gioco è che come c'è uno a fianco a te non tira non cross non fa niente non può fare nulla sotto pressing cioè e niente vi stavo dicendo mamma mia come dribbla Robben mamma mia giocatori schillati sono una bomba per chi li sa usare bene ovviamente niente e vi dicevo appunto fatemi sapere se vi può interessare qualche altra comparazione e comunque devo dire che ci sono sempre ovviamente dei giocatori ai quali per esempio è stato fatto il volto se avete visto il video precedente c'è Medel che è una cosa inguardabile oh se ne va bloccato serve Robben attenzione la dà indietro a Lam Alonso attenzione e anche Verreira che l'ho messo sulla copertina la cosa è inguardabile ma che proprio sembrano tipo cinesi cosa c'entra con gli occhi a mandor comunque concentriamoci un po' sulla partita dai bando alle chancher finta controfinta tripla finta servettiago Robben Robben se ne va con una skills niente Alaba Chelsea è molto chiuso il gioco devo dire gioca molto sulla difensiva e sulle ripartenze l'ho notato un po' in tutte le partite a livello di gameplay lo trovo molto diverso oddio il gioco è sempre quello insomma il pallone i passaggi i tasti però però come come dinamiche diciamo si sente molto diciamo un aspetto forse più realistico c'era quel fattore che sembrava quasi sì che cazzo sembra quasi che tipo devi fare tutti con una corsa invece qua diventa più difficile magari se mi fanno un po' di movimento beh facciamo qualche cambio dai qua la partita non si sblocca e la vedo dura che dovremmo fare una cosa ecco bravo questo joystick allora potremmo fare così inseriamo Müller Lerdammer mettiamo un bel vital a posto di Alonso ci sta Rafinha pure abbiamo ma perché Rafinha lo porta terzino destro ah Coman 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 Ribery è fortissimo infatti ho fatto una partita che ho segnato con Ribery vabbè però rischiamolo da Tiago pam pam attenzione la palla di nuovo per Ribery Lewandowski serverò bene ah vaffanculo tra l'altro nella partita fece un gol molto bello mi sembra con la Juve di pallonetto davanti al portiere io vi faccio vedere così la modalità dei rigori nel caso non l'avete vista ecco primo rigore del merda fortuna è andata bene vuol dire la prima volta che ho provato ne ho parati parecchie ecco oggi non credo di riuscirci comunque tipo ecco la levetta R quella di di no che schifo che schifo quella di destra potete ineffettivamente ah vaffanculo niente farò spostare il giocatore in questo modo no non ci posso credere l'avevo tirato bene cazzarola porca miseria vaffanculo ma il prossimo magari mi butto no si madonna no comunque è impossibile voglio è impossibile di restare i rigori veramente difficilissimo cioè non avete proprio idea mi ero buttato porca miseria ho fatto troppo darde anche se poi avevo fatto tipo palo call vabbè comunque ragazzi questa partita è andata così da merda magari datemi un po' di tempo per prenderci la mano sinceramente avrei potuto eh sì palo call e quando cazzo lo paravo rivediamo molto belli replay sì arrivederci niente ragazzi vi dicevo avrei potuto anche abbassare un po' la difficoltà a campione esperto e fare 3-4 call 3-4 skill che mi da 0 t tipo però 59% lo stesso e niente ragazzi però sinceramente preferisco di più mettere il livello massimo magari fare le figure di merda 3-4 call però la partita me la gioco sempre alla massima difficoltà poi alla fine potevamo anche benissimamente vincere anzi facciamo così proprio per provare qualche altra squadra proviamo una partita un tempo col Real vai Real Juve bello e per adesso stiamo pressando un po' attenzione il gol il gol molto bene molto bene bail ce l'abbiamo fatta a fare un gol bello bello devo dire la verità bel cross bello stacco a vuoto buffono completamente poverino va bene ragazzi vediamo che il video si può concludere qua altrimenti viene troppo lungo lasciate un bel like iscrivetevi al canale se ancora non lo avete fatto facebook twitter instagram descrizione io vi saluto ragazzi ci vediamo domani in un nuovo fantastico appuntamento bello a tutti ragazzi a tutti Grazie a tutti.